Eccomi qui, sono all'aeroporto di Fiumicino, mi sto imbarcando per Catania, forse in fondo vedrete anche il display che segnala il mio volo, sto facendo la fila, è stata una settimana interessante quella passata a Roma, abbiamo organizzato tante cose, come ho avuto modo di vedere su Facebook e su Instagram, ma adesso negli ultimi 30 secondi voglio dire che domani alle ore 18 all'Utel Sitano sarò a Palermo per un convegno sull'Europa che verrà, un convegno organizzato dall'associazione Fare Futuro Italia, Futuro Italia è una associazione molto vicina alla Lega e parleremo di Europa, questa Follower sarà inodore rispetto ai prossimi destini d'Italia oppure è venuta perché ha un progetto non certo positivo ai nostri confronti? E i 5 Stelle che hanno votato sia lei che Sassoli, sono con la coscienza a posto, lo vedremo domani, vi aspetto!